una nuova bussa comunque c'avevate ragione su cosa? scusami se ti rispondo solo ora per quello che ti sto per dire avrei voluto dirtelo di persona ma non ho il coraggio stami ignora no va avanti finisce non possiamo vederci domenica a Torino perché non sono di Torino no non sono un sacco di altre cose che ti ho detto mi dispiace non avrei dovuto risponderti quando mi hai scritto scusami davvero no vabbè e che gli hai risposto? l'ho insultata l'ho insultato perché a questo punto non so mancosenei ragazzi no siete due merda e cazzo ridete? ah sì i segnali c'erano tutti no non so tra ragazzi ci parlavo troppo bene non lo volevo capire io te lo dico la meglio paccato della vita mia ma la so fatta con un compagno mio alle medie ah io te mi abbaffa il culo lo giuro ma che stai a dire? oh Cristiano Lamantia ora faccio il modello a Milano una volta della vita devi provare tutto vai là beh ma tutto tutto no ma come no non sei curioso di sapere almeno chi è Massimo vai là e gli metti ah e quindi ora faccio il coattro per cancellare quello che hai detto prima oh se lo dite in giro piate una sveglia no no non ti giudicami ti preoccupare no ti vergogli ragazzi sono cose personali non ti preoccupare qua nessuno ti giudica non ti preoccupare qua nessuno ti giudica questo movimento è un grande intervento